Amici e cari amici eccoci qui, ci troviamo da Emporio 88, siamo qui con anche la nostra Antonella, nonché addetta alle vendite ed è proprio con lei che ho il piacere di riportare quella che è stata l'esperienza grazie ai video di AncheoSpot Allora innanzitutto grazie a te Antonio per la disponibilità che hai sempre nei nostri confronti Poi volevo ringraziare in modo particolare AncheoSpot perché con i video sponsorizzati su Facebook abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che era proprio quello di farci conoscere da un maggior numero di persone e ci siamo riusciti Tra l'altro come diceva giustamente Antonella siamo riusciti grazie appunto al supporto delle campagne sponsorizzate a rivolgerci proprio a un pubblico mirato perché le campagne sono state sponsorizzate ad hoc questo sempre con il supporto di AncheoSpot che è lieto di offrire ovviamente il massimo contributo e grazie a questo quindi abbiamo avuto la possibilità così come stiamo facendo ogni volta che c'è un evento piuttosto che un'iniziativa o una nuova linea oggi abbiamo scoperto grazie a questi canali come evitando i classici sistemi tradizionali che possono essere volantini piuttosto che siamo riusciti a misurare agire e raggiungere un pubblico interessato anche perché è un modo anche più veloce e mirato per ricevere nuovi clienti o comunque essere molto più conosciuti abbiamo anche visto degli apprezzamenti hanno commentato in diversi ci ha fatto piacere anche la tipologia di video che era stato tranquillamente reso più coinvolgente e quindi noi di questo siamo contenti vi ringraziamo ancora una volta Antonella grazie a te come sempre e noi continuiamo con le prossime testimonianze seguiteci ciao